Supera i 10.000 euro il valore complessivo della merce di provenienza furtiva rinvenuta dai carabinieri di Zafferana etnea nell'abitazione di un 32enne del luogo con precedenti penali alle spalle. Due settimane fa i gnoti malviventi avevano portato a segno un furto all'interno di una billetta di villeggiatura del comune pedemontano. Al termine di una breve ma intensa attività info-investigativa i militari dell'arma hanno compiuto un blitz nella casa del 32enne, trovando abilmente nascoste nel sottoscale nel garage diverse attrezzature per interventi agricoli e da giardinaggio, tra cui uno scuotitore elettrico per la raccolta delle olive ed un decespugliatore, ma anche una idropulitrice, un biotrituratore, uno scaldabagno e alcuni piccoli elettrodomestici, tutti rubati in quella villetta. Il 32enne è stato così denunciato per ricettazione alla procura di Catania, mentre l'area furtiva è stata restituita a legittimo proprietario.